La podologia è la specializzazione medica che si occupa della diagnosi, del trattamento medico e chirurgico di tutte le patologie della conformazione del piede. Questa disciplina si occupa delle problematiche legate alla struttura del piede e delle caviglie, fino ad arrivare alla gamba e alla schiena, se il problema è legato ai piedi. La podologia si divide a sua volta in diverse branche per area di interesse. Podologia pediatrica, geriatrica, angiologica, sportiva, reumatica, neurologica. Per diventare podologi, è necessario conseguire la laurea triennale in podologia, che fa parte delle lauree in professioni sanitarie. Al podologo è possibile rivolgersi in tutte le fasce d'età, a maggior ragione quando si svolge un lavoro che comporta lo stare molto tempo in piedi. Ebbene, dal punto di vista preventivo, recarsi da un podologo per controllare il corretto sviluppo degli arti inferiori dei bambini, al fine di evitare patologie in età adulta. Molte patologie alle estremità inferiori, possono colpire soprattutto gli anziani o ospedalizzati, causa condizioni croniche preesistenti che colpiscono il benessere e la mobilità dell'anziano. Per questo il podologo può aiutarlo periodicamente a gestire al meglio tali problematiche. Chi pratica sport abitualmente, è bene che si recchi periodicamente da un podologo per controllare lo stato di salute del piede, che in ogni specifica attività sportiva viene sollecitato in maniera diversa. In generale ci si può recare da un podologo, ogni volta che si abbia minimo dolore al piede, ma anche per un controllo annuale senza presenza di alcun disagio, per controllare che vada tutto bene. I sintomi da non sottovalutare, per cui valutare insieme al proprio medico di medicina generale, una visita presso un podologo sono. Dolori o crampi al piede. Dolore alle gambe. Callosità con perdite di sangue. Lesioni che faticano a guarire. Appoggio anomalo del piede. Disagio nel camminare. Problemi alle unghie come onimicosi. Vesciche. Stai cercando il podologo specializzato più vicino a te? Cerca sul sito www.drbox.it Oppure su www.socialdoctor.it Oppure su www.studiopronto24.it Questa è un'idea di UMA Innovation. Se questo video lo hai trovato interessante, presto faremo altri video. Iscriviti a questo canale e condividi. Questa è un'idea di UMA Innovation.